Buongiorno a tutti, ciao. Io parlerò in italiano perché il mio inglese è un po' povero. Te riego igile, mina riego in italia keeles, quando il mio inglese keel non è così buono. Sono veramente molto contento di essere qua con voi. Sono ammiratissimo, sono colpito dalla vostra scuola e sono contento di vedere le vostre facce. Per me incontrare i giovani ogni giorno nel mio lavoro di insegnante è la possibilità di vedere in faccia ragazzi, che hanno vivono un grande desiderio. E guardando in faccia i miei alunni, così come guardando in faccia voi adesso, io mi ricordo chi sono, perché tutti abbiamo questo desiderio, che da giovani si sente tantissimo. Ese ootte, il desiderio di incontrare, il desiderio di scoprire cosa alla vita, il desiderio di felicita. Antoine de Saint-Exupéry, un grande autore francese, dice che tutti grandi sono stati bambini. Ma pochi se ne ricordano. Saint-Exupéry on öelnud, et kõik suured inimesed on kunagi olnud lapsed, aga vähesed mäletavad seda. Ma tahaksingi alustada oma kohtumist teiega, öeldas, et teie sees on üks saladus, mida te ei tohiks ära unustada. Kui minugast küsitakse, millised on need tänapäeva noored, need õppilased, kellega ma kokku puutun. Või küsitakse, kuidas siis õppilased ka pärast covidit on. Me oma koolis teeme väga palju tööd sellega, mis on saanud õppilastest pärast sulgemisi ja lockdowni. Allora, sicuramente si può dire, che si vedano tanti segni di fragilità, questo si? Võib küll öelda, et on näha üha enam selliseid haavatavuse, hapruse märke noordes. Non so da voi, ma in Italia tanti ragazzi soffrono, han cominciato a vivere paure, han cominciato a vivere ansie. Ma ei tea, kuidas teil siin, aga Itaalias küll see pandeemia tekites selle, et noored hakkasid ennast ärevamalt tundma ja hirmu tundma. Una ragazza, che alla vostra età, ha scritto questo, che vi leggo, ha detto, io ho paura di rivedere in televisione i camion, che portano via i morti. Üks teie vanune tüdruk kirjutas oma kogemusest. Ma kardan vaadata telekat, et näha seal neid autosid, mis viivad surnukehasid ära. Ho paura di non poter tornare a vivere veramente. Ma kardan ellu, tõelisse ellu tagasi pöördumist. Ho paura di perdermi. Ma kardan, et ma kaotan ennast ära. Vi succede avolti di sentire queste paure? Kas te ei olete ka mingite selliste hirmudega kokku puutunud? Altri alunni dicono, ho paura di non farcella. Ja mul on, paljud noored Itaalias ütlevad, et mul on hirm, et ma ei tule toime. Altri hanno paura, perché sentono, che il loro valore è la loro performance. Teistel tekib hirm sellepärast, et neile tundub, et nende väärtus sõltub sellest, kuidas nad millegagi hakkama saavad. E così hanno paura delle interrogazioni, delle verifiche, hanno paura della scuola. Ja sellest on tekinud hirm koolies, kõikide kontrolltööde eksamitees. Alcuni dei nostri alunni non riescono usciere di casa. Ja meil on koolis ka õppilasi, kes ei julge, kelle nemm kodust välja tulla. Perché hanno paura di quello, che c'è fuori dalla porta. Es nad kardavad seda, mis on väljas pool kodust. E se ci fosse qualcosa, che mette in dubbio la mia performance? Ja kui on midagi, mis paneb minu saavutuse või soorituse kuidagi kahtlus alla? Ma il fatto, ragazzi, è che i giovani, che incontro, che incontriamo, non sono solo questo, non sono solo queste paure. Et uesnaglilad kardavadki just seda, et nende sooritus pannakse siis kohe proovile, kui nad välja tulevad. Aga tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et meie noortes ei ole mitte ainult see, see tunne, see hirm. Dentro il ragazzo, che non riesce usciere dalla propria stanza, c'è un desiderio immesso. Selle noore sees, kes ei julge isegi enda toast, ei taha välja tulla, on väga suur soov ja iha. Il desiderio, che avete anche voi. E see sama soov, mis on ka teis. Il desiderio di vita. Una ragazza ha scritto questo testo, che vi leggo. Üks tüdruk kirjutas niimodi. Aveva letto una pagina di Anna Frank, conoscete Anna Frank? Nad lugesite leheküle, tunnis lugesite leheküle Ann Franki päevikutest, kas te teate seda raamatud? Ok, sì. In quella pagina Anna Frank vede la primavera fuori dalla finestra. Ja selle leheküle, mida nad lugesid, Anna Frank näeb väljas, kuidas kevad saabub, esimesed kevade märgid. E sente risvegliarsi la vita. Ja tunneb, kuidas elu demast taas tärkab. E Anna Frank dice, sente il desiderio di tutto. Ja Anna Frank ütleb, ma tunnen iha soovi kõige järele äkitselt. Una ragazza, che alla vostra età ha scritto, anche io ogni giorno, voglio tanto, voglio tutto. Ja üks teie vanone tüdruk kirjutas, ka mina igapäevaselt tahan nii palju, tahan kõike. Dice, o una bellissima familia. Mul on suure pärane perekond. O una bellissima casa. Ilus kodu. Altsi la mano, chi ha una bella familia, chi ha una bella casa. Tõstke käed püsti, kellel on tore perekond ja ilus kodu. Bene. Okei. Dice, o dei buoni amici. Altsi la mano, chi ha dei buoni amici. Mul on head sõbrad, tõstke käsi, kellel on head sõbrad. Okei, wow. O, questo è difficile, dei corteggiatori. Latin lovers, no. O dei fidanzati. Mul on austajaid. Uno, uno. Altsi la mano. No, no, scherz. Ma attenzione a cosa dice. Aga nüüd vaadake, mis ta ütleb. Dice, ma perché? Tutto questo non mi vasta. Aga kõigest sellest ei piisa mulle. E fa questa domanda, che è la grande domanda dell'uomo, ragazzi. Ja siis ta esitab selle suure küsimuse, mis on üldse inimkonna suur küsimus. L'uomo non è soddisfatto da tutte queste cose. Inimene ei rahuldu kõigi nende asjadega, mida me just üles lugesime. Tanto che lei si chiede, cos'è che mi manca veramente. Ja siis ta küsib, mis see on, millest mul päriselt vajaka jääb. E lei ha scritto questo avverbio italiano veramente, veramente, l'uomo ha scritto grosso. Ja kirjutas suurte tähtadega. Ragazzi, in questo veramente c'è il nostro cuore. Ta kirjutas tõeliselt ja suurte tähtadega tõeliselt. Selles peitubki meie süda. Lei dice, non ho già tutto. Et mulle ei ole tegelikult kõike juba olemas. Dice, ma la risposta devo trovarla. Aga ma pean vastuse üles leidma. Ragazzi, noi abbiamo dentro questo desiderio, che ci dice, ma cosa mi manca veramente. Ma arvan, et meil kõigil sees on see soov ja küsimus, mis see on, mis mul tegelikult muudu on. Abbiamo nostalgia di qualcosa di grande. Meil on millegi nostalgia millegi suure järele. Abbiamo nostalgia di quello, di cui parlano i poeti. Meil on nostalgia või igatsus millegi sellise järele, millest räägivad luuletajad. Ecco, questo desiderio è più grande delle paure. Ja see igatsus ja soov on suurem kui meie hirmud. E io, che sono un educatore insieme ai miei collegi. E mina, che sono un educatore insieme ai miei collegi. E mina, che sono un educatore insieme ai miei collegi. Con ogni ragazzo cominciamo da questo desiderio. Me iga oppilasega püüame just alustada sellest samast soovist. Mi ricordo, quando mi hanno portato un ex-alunno, che era molto vivace, molto vivo, molto allegro. Me l'hanno portato dopo tre anni, che era uscito dalla nostra scuola, pärast koolist lakumist, ed era tristissimo. E i genitori mi hanno detto, non fa più niente, ha lasciato anche la squadra di calcio. Ja vanemad kaebasid, ütlesid, et ta ei tee enam mitte midagi, isegi jalgpalli jätis. Si alza tardi al mattino. Hoomiku lärkab ilja üles. Non fa niente tutto il giorno. Terve päevi, ei tee mitte midagi. Che cosa aveva perso questo ragazzo? Mis ta siis nüüd ära on kaotanud? Ve lo chiedo a voi, secondo voi cosa aveva perso? Teie arust, mis tal kaduma oli läinud? Come mai non faceva più niente? Miks ta äkki enam mitte midagi ei tahtnud teha? Un oggettivo, un senso. Ah, cioè? Chiedi di spiegare. Quando hai finito la scuola, non c'è un senso, un goal. È giusto, è giusto. Non c'era più un desiderio. Non c'era più un obiettivo. E tõepoolest jah eesmärki või sellist soovi enam sellega seoses ei olnud. L'uomo è quella kreatura, a cui non basta avere tutto. Inimene on selline olend, kellel ei piisa sellest, et tal kõik olemas on. Vuole avere il senso. Sest ta tahab ka mõtet. Seatutto, ma gli manca il senso, non si alza più. Kui tal on kõik olemas, aga ei ole sellel kõigel tähendust või mõttestatust, siis ta ei taha enam ommikul üles särgata. Però quel ragazzo non era morto. Aga see poiss ei olnud muidugi surnud. Io gli ho fatto due domande. Ja ma küsisin tal kaks küsimust. Voi cosa gli avreste chiesto? Mis teie oleks tema käest küsinud? Pensateci, cosa gli avreste chiesto? Vivere così. Che domande gli avreste fatto? Mis küsimused ei oleks talle esitanud? Che cosa vuole fare? Io gli ho fatto una domanda simile. Ja ma küsisingi midagi sarnast. Li ho chiesto, ma tu sei contento di vivere così? Küsisin, kas oled rahul sellise eluga? E lui ha detto no. Ja ta ütles ei. E poi gli ho chiesto, ma ti piacerebbe vivere meglio di così? Ja ma küsisin, kas sa tahaksid paremini elada? E lui mi ha detto sì. Ja ta vastasi ja. Ragazzi, in quel no sì, c'era l'uomo. Ja selles ja ja ei vastuses ongi inimese olemus. C'era una scintilla di speranza, di humanità. Ja selles on teatud lootusesäde, inimkonna lootusesäde. Allora, che cosa deve succedere? Cosa deve succedere, perché uno esca dalla bolla delle proprie paure? Mis siis peab juhtuma selleks, et inimene enda hirmude mullist saaks välja tulla? Cosa che ci rende di nuovo vivi, quando perdiamo la speranza? Mis meid uuesti elusaks muudab, kui me oleme lootuse kaotanud? Cosa vi ha cambiato nella vita? Mis peab muutuma teie elus? Io chiedo dieci secondi di silenzio e vi chiedo. Che cosa vi ha aiutato a vivere nella vostra vita? Ma annan teile nüüd kümme minutit järele, kümme sekundit järele mõelda, mis teid elus on aidanud elada? Poi vi dico, cosa aiutatume? Ja siis ütlem, mis minul on aidanud elus? Cosa vi ha aiuta uschire di casa? Mis aiutab teil kodust välja tulla? Perché si te uschite di casa stamattina? Miks te täna hommikul välja tulite oma koduksest? Mikrofonu. Si, come ti kia... What's your name? Teodor. Teodor. Piacere. Nice to meet you. Teat, teico, maimani. Ela conoscenza, che tutto è possibile. Bellissimo. Bellissimo. La conoscenza, che tutto è possibile. Teadmine, et kõik on võimalik. Suure pärane vastus. Che, che c'è ancora una possibilità. Et on veel mingi võimalus. Che la vita non è quello, che abbiamo in testa. Et elu ei ole ainult see, mis meil siin peas. Che la vita non sono le nostre paure. Ma Teodor, tu l'hai capito da solo o l'hai imparato da qualcuno. Kas Teodor jõudsid ise selle arusaamisele või oled selle kelleltki õppinud või kuulnud kelleltki? Il mio proprio conclusione. È la tua conclusione. Bello, è una cosa bella. Le esperienze, che hai fatto, ti hanno portato qui. Need kogemused, mis sul on olnud elus, on siin nagu selle järjalduseni. Io vi dico, cosa ha cambiato me. Ja nüüd ma ütlen teile, mis mind on muutnud. Ah, tu või parlare. Si. What's your name? Thomas. Thomas. Molto piacer. I would say death. Death? La morte. La morte ti ha fatto alzare questa mattina. Teadmine surmast on see, mis siin taitas. Cosa significa? Mis see tähendab sinu jaoks? Selgita natuke, pikemalt. Surm tähendab seda, et jah, kõik on võimalik, aga see mõttes, et kui meil on piirang meile elule, siis see mõttes see võibgi mõtted. Et kui meil on piirang sellele, mis me saame tehtud, meil on meie piiratud ajaga, siis on mõtted midagi teha. Siete molto riflessivi. Siete väga head kaasamõtlejad. Molto filosofico, quello che dici. Ja filosofilise mõtlemisega. Si, prego. What's your name? Miriam. Eesmärk. Ok. Two microfones. Fantastico. Ketschium. Eesmärk. Ce on obiettivo. La imparato da sola, questo obiettivo. Kas selle eesmärgi sa seadsid endale ise või on see sinu enda eesmärk või see kellegi poolt sulle seatud või? Olamat. El mio proprio. El tuo. Me viene anche da delle altre. Ok. Allora vi dico, che cosa ha cambiato me e che cosa vedo che cambia i miei alunni. Ok. Ma ütlen nüüd teile, mis mind on muutnud ja mis ma näen, mis minu õpilasi muudab. Ragazzi, a me mi ha cambiato un incontro. Minu elu on muutnud üks kohtumine. Con, quando io avevo la vostra età. Kui ma olin umbes teie vanune. Non ero un ragazzo disperato. Ma ei olnud muidugi meeleheitel. Ma ho incontrato un adulto. Aga ma kohtusin ühe täiskasvanuga. Nei cui occhi ho visto una scintilla di vita. Ho visto un adulto che aveva una speranza non solo nelle parole. Questo è facile. Ja ma negin täiskasvanuga, kellele ei olnud lootus, mitte ainult sõnades, sest sõnades on see lihtne. Ma ce l'aveva negli occhi, nel sorriso e nel cuore. Kellel oli see silmades, tema naeratuses ja südames. Ho trovato una persona interessante, perché stava gustando il senso della vita. Ma nägin huvitavati inimest, kes oli nii huvitav, sellepärast, et ta oli tunda saanud elu maitsed. Io vedo, che anche i miei studenti cambiano per un incontro. Ja ma näen, et ka mine õppilased muutuvad kohtumiste kaudu. Un incontro con qualcuno, che sperimenta il gusto della vita. Il gusto della vita. Kohtumistega, kohtumised inimestega, kes on tunda saanud elu mekki või elu maitsed. E quando io incontrato quell adulto. Ja kui ma seda täiskasvanud kohtasin. Si aperta una nuova ipotesi sulla mia vita. Ja siis avane sobis uus hypotees elusuhtes minu jaoks. Ad esempio, ho cominciato a sentire, che ogni giorno c'era una possibilità, come diceva Teodor. Ja haccasin tundma, et igas päevas tõepoolest on võimalus, nii nagu Teodor ütles. Perché io lo vedevo vivere così. Era un insegnante. Ja sest ma nägin, et see inimene, see oli tegelikult õppetaja, see inimene, kes mind inspireeris, et tema ajaks oli see niimoodi. In ogni testo, che leggeva, lui sentiva una possibilità di imparare una cosa bella. Iga tekstiga, näiteks, mis me lugesime, ta nägi võimalust näidata midagi ilusat. Ma faccio un ultimo passo. Perché non voglio togliere troppo tempo. Veel viimane mõte. Che cosa può rendere un adulto certo? Mis võib muuta ühe täiskasvanu kindlaks? Che cosa può rendere una persona certa in modo da trasmetter una speranza? Muutada nii kindlaks, et ta saab lootust teistel edasi anda. Allora dico, che serve un cammino. Selleks on vaja teekonda. Un percorso. Rada. E vi faccio questo esempio. Ja toon teile ühe näite. Io ho perso mio padre quando avevo sedici anni. Ma kaotasin oma isa, kui olin 16-aastane. Mio padre si è ammalato di una malattia grave, un tumore. Mu isal tekis raske loomuline kasvaja, halva loomuline kasvaja. All'inizio della sua malattia mio padre ha perso la speranza. Ja selle teekonna, haiguse teekonna alguses, isa kaotas lootuse. Era blokkato a letto. Ta oli aheldatud voodisse. E non vedeva una ragione per aprire il joocchi al mattino. Ja ta ei näinud ka enam mingit mõtet, üldse ommikul silmi lahti teha. Li Teodor, lui aveva perso il senso delle possibilità. Nii et tema oli kaotanud selle võimaluste mõtte või dimensiooni enda jaoks. Perché poteva fare molto poco. Sest tal oli just kui vähe võimalusi tegutsemiseks. Quasi niente. Peaegu üldse ei olnud. Li la morte, l'idea della morte se avvicinava. Ja see surma mõtte tõidele selle kohale, selle aru sama. Ma selle morte ei nulla, el nulla, che si avvicina, ti paralizza. Ja kui sulle tundub, et kui see surma on nagu mitte miski või tühisus, siis see halvab su. Bene, io ho visto cambiare mio padre. Aga siis ma nägin ma isa muutumist. Nei mesin cui è stato letto, ha fatto un camminu. Nende kuude jooksul, mis ta voodis haige oli, läbis ta terve pikka teekonna. E la prima cosa, che ha dovuto imparare, è che il suo valore, il nostro valore, non era nella performance. Esimene asia, mis ta pidi ära oppima, on see, et meie väärtus ei sõltu meie sooritusvõimest. Ragazzi, il tuo valore non è nella performance. Anche quando non puoi fare niente, tu vali, sei unico. Come mio padre. Isegi kui sa ei saa mitte midagi teha nagu minu isa, oled see ikkagi väärtuslik, see ei sõltu sooritusest. Anche quando perdi ogni capacità di performance, tu vali. Isegi kui sa kõikides sooritusvõimest, just kui jääd tegevusvõimetuks, oled see endiselt ikkagi väärtuslik ja unikaalne. Anche solo per il fatto, che sei unico. Kas või selle pärast, et sa oled ainus maailmas. E non c'è mai stato nessuno prima di te come te. Mitte kunagi varem ei ole maailmas olnud sellist inimest nagu sina. C'è colla tua esperienza, colla tua sensibilità, colla tua voce. Sinu hääle, sinu kogemustega, sinu tunnetega. E non ci sarà dopo di te, sei unico. Ja ka pärast sind ei tule ühtegi sellist. Prima di qualsiasi performance, sei questo mistero di unicità. Nii et enne kui me räägime igasugustest sooritustest, on see, räägime me sellesest ainulaatsuse saladusest. Ma mio padre come l'ha capito. Ja minu isa sai sellest arme. Ogni giorno venivano a casa nostra i suoi amici. Iga päev tulid sõbrad meie maia. E kando venivano, io vedevo mio papa, che alzava la testa. Ja siis ma nägin, kuidas isa tõstis pea. Tornava a parlare delle cose, che amava. Ja hakkas räägime nendest asjadest, mida ta armastas. Che aveva perso, aveva perso quelli interessi. Millesse ta oli tegelikult just kui huvi kaotanud. Tornava a parlare di lavoro, di arte, di politica. Hakkas jälle räägime oma tööst, kunstist, politikast. Teodor, tornava a sentire la possibilità. Ja nagu Teodor ütles, hakkas uuesti mõistma kõiki, nägema võimalusi. Ma non da solo, perché le la portavano questi amici. Aga mitte üksi, sest teda kantsid tema sõbrad. Stavano libe, bevevano il caffè, pregavano insieme. Nad tulid lihtsalt kohale, jõid kohvi koos, vestlasid, palvetasid. E gli davano, gli restituivano il senso. Ja andsid tal tähenduse, mõtte tagasi. Ad esempio il fatto, che anche Dio ha sofferto sulla croce. Ma non era un discorso, era una testimonianza di questi amici. Ja see oligi siis nende sõbrade panus. Quando questi amici andavano via di casa. Ja kui sõbrad meie juurest ära läksid. Mio papa era cambiato. Siis oli isa justkui muutunud. Sorrideva, era tornato un uomo. Ja hakkas jälle naeratama, temast oli jälle inimene saanud. Non per le mediciine. Mitte mediciini abil. Non per qualche pensiero. Mitte oma mõtete abil. Ma per un'esperienza di amore piena di senso. Vaid mõtestatud armastuse kogemuse kaudu. Ragazzi, ci sono dei rapporti preziosi, perché ci fanno sentire amati e pieni di senso. Et need on need värduslikud kogemused, mis aitavad meile ennast tunda armastatuna ja tähendusrikkana. E così mio papa, da uomo impaurito, è diventato un testimone di speranza per me. Ja niimoodi sai minu jaoks mu isast sellest hirmunud mehest äkitselt lootuskiir. Perché l'ho visto cambiare. Sest ma nägin tema muutumist. Tornare sorridere. Nägin, kuidas ta hakkas taas naeratama. E l'ultima ora prima di morire ha voluto vedere uno dopo l'altru i suoi tre figli. Ja enne surma tahtis ta järjest näha, kohtuda kõige oma kolme pojaga. Era debolissimo, ma sorrideva. Ta oli muidugi väga nõrgaks jäänud, aga ta naeratas. Perché sorrideva? Ja miks ta naeratas? Per tantimesi di amore ricevuto. Sest ta oli kõik need kuud saanud nii palju armastust. Diceva, Dio ha bussato alla porta di questa casa attraverso degli amici. Ja ta ütles, et Jumal nende sõprade kaudu koputas ise selle maja uksele. Ha detto ai tre figli, tra cui io, a chaskuno del una cosa. Ja ta ütles igalle pojale erinevaid asju. Ja minule ta andis kõige värduslikumad nõu anded ühele õpetajale. Guardate bene. Mi astretto la mano, come si fattra uomini. Ja io veo sedici anni. Mi ha sorriso. E sapeva, che stava per morire. Lo sapevo anche io. Ta teadis, et hakkab surema, ja seda teadsin ka mine. Ragazzi, io non me la tolgo più quel sorriso dal cuore, dalla testa. Et see oli tõeline selline südame, naeratus. E poi mi ha detto due cose. Uno, in italiano si dice, sei in gamba, cioè sei forte, sei bravo. Sa saad hakkama, ütles ta. Ma ragazzi, vedeva tutti miei errori. Li vedeva ogni giorno. Mi stava dicendo quello, che aveva imparato lui per sé, che tu sei in gamba. Tu vali, non perché fai tutto giusto. Tu vali perché ci sei. Ja minu isa sõnum, see, et sa saad hakkama, usun sinusse, tähendas seda, et kuigi ta nägi ju ka kõiki minu puudusi ja vigu, ta ütles, et mitte need ei lue, vaid sina ise oled väärtuslik. Capite, che mi ha consegnato un valore, che oggi mi porta in giro per il mondo. Ja nüüd, see on selline väärtus, mis mind aitab kõik ja l'hakama saada. Io non ho paura di andare in giro per il mondo, so poco l'inglese, ma non ho paura, perché mio padre mi ha fatto imparare, che sono in gamba, che valgo. Ma ei karda ringi reisida maailmas, kuigi ma oskan ju väga vähe inglise keelt, sest mu isa ütles mulle korda, et sa saad hakkama. E la seconda cosa, che mi ha detto, è più misteriosa, ma mi ha rimasta. Ja teine asi võibolla oli veidi mõistatuslikum, mis ta mulle ütles, aga see on mulle ka meelde jäänud. Come si fai in Italia metto? Uè, ci vediamo, eh? Ja ta ütles, varsti näeme. Che vuol dire ragazzi, mi stava dicendo? Non una filosofia. Mi ha detto, che non finisce tutto con la morte. Mi ha detto, che non mi ha fatto un discorso. Ja saad aru, et ta ei pidanud mulle mingit kõnet. Mi ha consegnato un tesoro. Vaid ha andis mulle edasi aarde. Scoperto in un incontro e verificato in un cammino. Andis sellise aarde, mis oli läbi proovitud tema enda teekonnaga. Che cosa dirò domani ai miei amici ai nostri amici edukatori? Mida ma siis ütlen homme teistele, teiste õppetajate ja lapsevanemate? Io racontero questo, che per essere edukatori, bisogna fare un cammino per scoprire, qual è il mio valore e che senso alla vita. Selleks, et olla üldse õppetaja, peab kõigepealt aru saama, milline on minu väärtus ja milline on mõte. Perché allora lo comunikerò col sorriso. Ja ma katsun seda edasi anda naeratusega. Col gusto di vivere. Con la testimonianza, usiamo questa parola difficile. Con la testimonianza, witness. Ja püüan ise olla siis selle tunnistajaks. E allora per chiudere vi voglio leggere una piccola lettera di una ragazza. Tempo finito. Ja lõpetuseks, päris lõpetuseks loeksin ühe väikese lõigu, ühe tüdrukku kirjast. Ce la fate ancora? Jouvate veel, jouvate veel kuulata natuke. Okei, sii. Questa ragazza, dopo la scuola, dopo aver fatto la scuola nel mio instituto, purtroppo ha cambiato paese e ha iniziato un percorso nella droga. See tüdruk oli meie koolis, aga siis ta pidi teisele maale minema... Ja tal tekisit ka uimastitega probleemid. Poi, grazie al cielo, ha incontratu una comunità. Aga taevale tänu ta sattus ühte kogukonda. E in questa comunità ha recuperato il rapporto con la vita. Ja sellest kogukonnast ta taastas oma suhte eluga, või tuli elule tagasi, ne öelda. Ha fatto un incontro, che le ha ridato speranza. Ja tal leidis ka asetüks kohtumine, mis andis tale uuesti lootust. Allora, prima di leggere või loo, io vi chiedo altri dieci secondi di silenzio. Cioè, voi avete mai fatto un incontro, un incontro con qualcuno, che vi ha fatto vedere un modo bello di vivere. Pravate pensarti. Ma palun teil ka mõne sekundi jooksul järele, ma ajalda, kas teie oma elus olete kohanud kedagi, kes on just kui teie jaoks kehastanud elumõttekust. Avete mai incontratu qualcuno, che vi ha un po' cambiati? Kas te olete kohanud kedagi, kes on teid veidik ennegi muutnud? Perché io sto imparando questo, che la vita non cambia da soli. Cambia per quest incontri. Sest minu jaoks on küll tõde see, et elu ei muutu ise, vaid ta muutub kohtumiste kaudu. Incontri che porta nel senso. Mõtestatud, tähenduslike kohtumiste kaudu. Quando è... Dieci secondi. Kümme sekundit. Provate a pensarci, alla faccia che vi ha cambiati. C'è qualcuno, che vuol dirlo? Kas keegi tahab ka välja öelda? Difficile questa. Raske. Küsimus. Questa è più difficile. Allora vi leggo quello che ha detto questa ragazza. Loen si sette selle, misse Tüdruk kirjutas. Dalla comunità in cui era, la comunità che l'ha salvata, ha scritto una lettera a un suo vecchio professore. Sellest kogukonnast, mis kohu ta oli sattunud ja mis ta tegelikult päästis, kirjutas ta kirja oma endisele õpetajale. Ja scritto queste parole. Kirjutas nii. Adesso mi rendo conto, che avevo paura. Nüüd saan ma aru, et ma kartsin. Avevo paura di stare di fronte alla realtà. Kartsin kohtumist tegelikusega. Ecco perché ho scelto la via della droga. Selle pärast ma valisin uimastid. Perché non mi faceva sentire la paura. Et ma ei tunneks hirmu. Però ragazzi, c'è anche un'altra strada. E la elu dice. Ja ta ütleb. Solo ora posso dire, che attraverso di lei, professore, io ho iniziato a incontrare un senso. Ja ütleb oma endisele õpetajale. Nüüd ma saan aru, et ainult läbi kohtumise teiega hakkasin ma nägema selles kõiges mingit mõtet. Ora che ci penso è proprio così. Io la vedevo... Sta dando del lei, eh? Io la vedevo pieno di vita. Ma mäletan, kuidas ma nägin teid täis sellist elu jõudu. Carico di un'energia, che non capivo, ma invidiavo tantissimo. Mingi energia oli teis, mida ma ei mõistnud, aga mis andis mulle samuti elu jõudu. Sapeva essere un professore severo, quando serviva. Edava il mille per mille per i suoi studenti. Te oskasite olla range, kui selleks oli vajadus. Per farli appassionare un po' a quello, che studiavano. Ja panna meid huvituma sellest, mida te õpetasite. Un professore, che si commoveva, quando si parlava di poesie. E saltava sulla kattedra per cercare di farcis veiare. Ja, kes ringi hüppas meie selleks, et meid elavamaks muuta. Era semplicemente un professore, che voleva tanto bene ai suoi studenti. Aga eelkõige oli see õpetaja, kes soovis niivõrd palju head oma õpilastele. E continuava a dimostrarcelo anche, quando noi, in italiano dice, ce ne fregavamo. Cioè, eravamo indifferenti. Ja jätkas sellel teekonnal, isegi siis, kui meil kõigast suva oli. Allora, la lettera finis così. Io capivo, che c'era qualcosa di grande, che le dava la forza. Ma sain aru, et oli midagi suurt, mis andis teile, õpetaja, jõudu. La forza per vivere anche le giornate più difficili. Si vedeva, che nella sua vita c'era un senso, virgola, c'era Dio. Oli näha, et teie elus oli mingi mõte, oli Jumala kohalolu. E oggi, che lo sto incontrando anche io. Ja nüüd, kui ma ka ise seda kohalolu tunnetan. E che mi viene questo ricordo, le chiedo. Ja see mulle meelda tuleb, ma küsin. Possiamo camminare insieme? Kas me võiksime koos kõndida? Ecco, ragazzi, io ho finito quello che volevo dirvi. Nüüd, minu poolt kõik. Volevo dirvi questo, che la vita cambia, se incontri qualcuno, che è pieno di vita. Elu muutub siis, kui te kohtate kedagi, kes on elust pakatamas. E ve lo auguro con tutto il cuore, perché la vita diventa proprio bella. Ja soovin kogu südamest teile selliseid kohtumisi, sest siis muutub elu tõepoolest ilusaks. Grazie. Grazie.